ciao sono il dottor max benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in italia in questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano nella lista troverai i nomi delle farmacie i loro indirizzi completi i numeri di telefono e codice della farmacia al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te in questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano ad aci catena in provincia di catania in sicilia farmacia fallico cecilia via croce 7 9 località ac san filippo telefono 0 95 8 7 9 1 1 6 codice 14.832 farmacia ferlito snc piazza umberto 33 telefono 0 95 8 0 1 4 6 7 fax 0 95 8 0 1 5 2 4 codice 14.682 farmacia la gega agostino giuseppe via vittorio emanuele 154 telefono 0 95 8 0 3 0 0 7 3 codice 14.880 farmacia leone snc via 4 novembre 133 telefono 0 95 7 6 4 4 4 4 8 7 0 codice 14.834 farmacia mano del dottor manno antonio via san nicol 8 a codice 18.733 farmacia san filippo snc via nizzetti 143 località ac san filippo codice 20.098 farmacia vampolieri della dottoressa alessandra de cristofaro via vampolieri 9 f codice 18.730 ad ac catena non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità soprattutto in momenti di necessità o emergenza ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse il dottor max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno la tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura questo canale potrà esserti utile in futuro ti consiglio di iscriverti grazie ancora per l'attenzione buon proseguimento